Oggi terza pagina si apre con buone notizie provenienti dalla fiera di Francoforte. L'Italia esporta sempre più i suoi libri. In un periodo di forte criticità per la nostra editoria, consola quindi questo più un 9% che riguarda proprio la vendita di diritti all'estero. Nel rapporto dell'Associazione Italiana Editori, presentato in questi giorni alla Buchmesse, emerge anche una crescita del 5% nel giro d'affari dei primi otto mesi del 2019 per l'editoria di varia, adulti e ragazzi, che dopo quasi otto anni vede aumentare anche il numero di copie vendute, con un significativo più 4%. E sempre a proposito di libri, c'è da registrare un intervento del ministro dei beni culturali Franceschini. Noi sosteniamo la fiera del cinema, ricordato, ma il libro è importante almeno quanto un film. E allora perché non fare la stessa operazione sull'intera filiera del libro e quindi aiutare le librerie piccole e grandi, i distributori, gli autori, i giovani, gli editori? Attendiamo quindi una nuova legge per l'editoria. Ma ora spazio a fumetti, disegni, sceneggiature disegnate, vignette e ritratti del grande sceneggiatore Furio Scarpelli a 100 anni dalla nascita. Furio Scarpelli è uno dei principali artefici dell'identità del cinema che è stato fatto in Italia, del grande cinema che è stato fatto in Italia, perché ha contribuito, forse è stato tra i protagonisti, a unire le due principali correnti del dopoguerra, ovvero il contributo degli umoristi, dei comici, degli scrittori satirici, degli scrittori di commedia che arrivavano per lo più dalle riviste umoristiche o dall'avanspettacolo che scrivevano le sketch per i comici e l'ho unito a un'altra potente tendenza di quegli anni che era il cinema neorealista e quindi la scoperta del reale, del popolo italiano, di questa realtà sociale che era stata massacrata, piegata da una guerra e da vent'anni di dittatura. La sua prima vera professione che si è portato dietro per 75-76 anni è stata quella di disegnatore e illustratore. Cominciò a lavorare nei giornali per ragazzi, soprattutto negli anni 30, 1935-36-37-38, scriveva storie di avventure e vignette per ragazzi, dopodiché riprese, passata la guerra, riprese il lavoro di disegnatore, di umorista, di vignettista al Marco Aurelio che era un giornale satirico e fu la cucina di tanti poi talenti per il cinema perché lì si conobbero con Age, appunto con Scola, con Fellini, con Monicelli, Steno e passarono poi tutti al cinema. Grazie per la visione!